Luigi De Vincenzi, vicepresidente del Consiglio regionale, siamo qui per parlare di un qualcosa che riguarda veramente tutta la regione, nel senso sempre meno campanile, sempre più sinergie, sinergie associative, politiche di territorio. Quanto tutto ciò può essere uno specchio della Liguria intera di domani? Credo che sia il futuro di domani, pensare diversamente da quello che è stato detto diventa veramente difficile, credo che bisogna proporre ai turisti una Liguria diversa, una Liguria più complementare rispetto a quello che abbiamo sempre fatto vedere, non basta più il mare o la spiaggia, ci vuole qualcosa d'altro. Credo che questo territorio abbia insegnato che grazie al clima e grazie alla sua conformizione geografica può dare molto. Lo sfruttamento di questo molto attraverso queste attività che nascono, un grande volano dell'outdoor e di tutto quello che può essere l'adeguarsi a questo territorio, credo che sia il futuro. Credo partire con queste cose, anche sfruttando quello che è stata l'esperienza del finale, che tutto questo deve diventare un territorio, non più una località, non più un paese, non un territorio. Basta con i campanili, basta con i comuni che guardano soltanto a se stesso, ma viva Dio si sta guardando molto più distante. Molto più distante vuol dire un territorio che presenta diversità, presenta caratteristiche che si adattano a una cosa o all'altra, bisogna sfruttarlo tutto. Credo che quello che sarà nascendo e che abbiamo presentato oggi vada in quella direzione lì, quindi complimenti alla SISTON, complimenti però soprattutto a un territorio che si sta muovendo verso quello che viene richiesto. Ci sta guardando un intero popolo, un intero all'Europa, che grazie al nostro clima noi gli offriamo queste cose. Quindi credo che sia il viattico buono per parlare di un'era nuova per il turismo.